Musica Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video di RoboZo194 Benvenuti a un nuovissimo episodio di Gears of War 2 Allora, ho notato che ci stiamo sempre di più biglienando la fine del gioco E quindi in settimana andrò a prendere il terzo Giro Merda Mi hanno colto un po' impreparato Ok, sta battaglia Sarò molto più preparato Abbiamo compagnia, Delta Abbiamo compagnia Andrì, andrì Andrì, andrì Andrì Ehi Attenzione Mi ho preso un altro E blocchina visuale Qualche cazzo ne dovrò uccidere? Sì Ma sono tantissimi Parti Merda Merda Non so nemmeno dove cazzo ci stanno sparando No Ti blocchi la visuale Ok Non posso sparare niente Ok Cos'è successo? Oh porco il cazzo Mi ha rispuntato quel bastardo Goal Possiamo andare più veloci Il cavallino c'è al marzo Spara Spara figlio di pittana Spara No Del cazzo di uccellaccio Non ci molla Parate un radicolo Vedete quei ratti lottari Parate le braccia Il cavallino cazzo di uccellaccio Stai spostando troppo Ma che cazzo Non riusciva a spararli E' una cosa abbastanza confusa What the fuck Spari cazzo E' fastidioso quando in gioco non mi sparo Su delle indragliette Del cazzo Del cazzo di uccellaccio Non ci voglia Sparate a un'altra porta Vedete quei ratti lontani Sto pronto a spararli all'imbraccia Merda Ho notato all'ultimo Mi aveva agganciato Gran figlio di buona donna Ok Stolta cerchiamo di essere seri E professionali Ahahahah Robina Non intendeva Per sparategli all'imbraccia Ok Ok che cazzo è andato? ok bamm fa male è stronzio Abbiamo 20 minuti per questa missione Il cavallo che hai cavalcato Cazzo E' una zona di guerra che ne è proprio Iasinto Che raggio Via d'ammalo C'è mancato davvero poco Marcos, il presidente e il colonnello Hoffman sono qui con me Venite qua il prima possibile L'avete sentita, andiamo Eh, vai cazzo, su Molto bene, Felix Avete fatto un ottimo lavoro Qual è la situazione? Abbiamo evacuato quasi tutta Iasinto Ma ci serve del tempo per evacuare i Gears dal vuoto Un piano per far sprofondare Iasinto? Quasi, stiamo perfezionando i dettagli Quando ha inviato i dati, sergente Fenix Pensavo che fosse impazzito Faccio questo effetto Lo so Ma sembra proprio che suo padre avesse ragione Ma davvero Le locuste sono entrate nel cortile Facciamo noi Non senza di me Se è l'ultimo attacco a Iasinto Non me ne sto Vi con le mani in mano Mi sembra giusto Non fa una piega Abbiamo quasi 20 minuti abbondanti da spendere per questo episodio Percursione Forza, 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 forza Dove? Dove? Mi sembrano quasi tutti morti Faccio giro Per vedere se mi sono perso qualcosa Ok Un fugile da Gekinio nemmeno non sapevo Wow Faccio giro E' un grosso danasso BAM K.R.36 Bra Andate a fare il cazzo Noi Vero Vero Avanti Vero Vero Passare Cazzo Vero che crolla Cazzo Cazzo Non è scappato a baccare il tonno di scimoridero Cazzo 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 Controllo, forza nemica in arrivo all'entrata del cortile Ricevuto, 3-2 Delta, dovete andare subito all'entrata ove Va bene Selezete posizione sul lato Ok Ricevuto, controllo, ci muoviamo Credo sia qui Siamo nei guai qui Ci serve aiuto Ci serve Ci serve Ci serve Che non muore si rivede Cazzo 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 Grazie a tutti. Tutte le forze in zona che sono stati avvistati dei Brumac nel centro città. Preciso controllo, andiamo a verificare. Chi hanno colpito? Abbiamo perso i controlli nazionali. Merdevole. 3-2 ha battuto. Qual è la situazione con i Brumac? L'ultima volta che erano stati avvistati stavano andando all'entrata Nord, 3-6. Ma ora li abbiamo persi. Ricevuto, teneteci informati. Delta, le torri di comunicazione sono sotto attacco. Ci serve subito il vostro aiuto. Datevi una mossa, Delta. Abbiamo perso le torri e anche il contatto con tutte le nostre forze. Quella situazione sta andando a puttane. Che linguaggio aulico. Ecco le Baird che fine hanno fatto. Andiamo. Usa la torretta. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sono spariti Non capiamo niente particolare Abbiamo mollato la nostra fedele aminta Ma ok, non fa niente Grazie a tutti! Siamo noi su bordo, giusto? Sembra proprio così, sergente! Diamoci una mossa! Sì, non fa niente Sì, non fa niente Sì, non fa niente Sì, non fa niente LOL 107 dovrebbe andare bene 135 Stupore, scombolgine! 107 Vabbè Io l'avevo già tirata Ora si andava a segno Cazzo Mi direi che ne viene un'altra Oh no, questo è un Brumac No, non conviene sparare qua Stiamo al chiuso Cazzo Cazzo Con quello ho fatto Oh, due Brumac Il cazzo Riprendì 51 Manco che di scazzo Molto 150 Vabbè Non l'ho preso Ma ok Controllo L'entrata principale al sicuro Stiamo tornando Delta chiudo Tu Tu Sei il sostegno Figliuolo Allora come siamo messi? Abbiamo un piano Ma non sarà facile Abbiamo scoperto una caverna Vicino al cratere Telenocusto Se riusciamo a piazzarci Una bomba solare Jacinto potrebbe Sprofondare definitivamente Dov'è la fregatura? Data la presenza Di Sidere e Nemesis Non possiamo mandare Un elicottero A sganciare la bomba Qualcuno Deve ripulire la zona E quel qualcuno Siamo noi Giusto? Bear Cole Date una mano Con la bomba solare Dom Mi sa che dobbiamo Tornare là sotto Che tue falle MADRE A TERRA MERDA NONI GICCHINI non deve fare male dobbiamo sbatterli fuori qua per arrivare al cratere ci sono due entrate pare ci separiamo? si va bene ai sacchi di sabbia ok si di puttana però non è morto quello invece si per quella vacca della tua regina merda eccolo io l'ho sparato nel gomito questo invece è andato in testa oh cazzo è un clint drawer è un peggio dei nazi merda sto cercando di sparare alle taniche oh cazzo dom dom cazzo di ridi testa di minchia dom testa di cazzo mi rianima e mi porco il cazzo la tua sorella con la vacca Dietro le barriere! Sto avanzando! Mi sto muovendo! Niente da fare? Perfetto Non ho posto così Ok Andiamo in tibere con questa Abbiamo anche le munizioni Altre munizioni, altre munizioni Allora a sto punto torno indietro e mi vado a prendere Dammi un po' di quelle Che cazzo è un mercatino dell'usato? Dammi un po' di quelle, no? C'ho ripensato, dammi queste Eh? Eh? Che cazzo bisogna andare ora? Che hanno dovuto tirare? Presi Granite Muori da di terra E i verbi saratasti? E i verbi Ma ? Di dietro? Da! Forse! Mangia il terreno Ok, do me là su che fa strage Guarda Quella bomba l'ho conosciuta bene Bel colpo preciso Frantuma tua sorella Noi prendiamo tutto, non si dice mai di no Ok Tu, vabbè Vai là su, io vado diretto per di qua Anche se credo che abbiamo così finito Limina i nemici del cortile Hai sacchi di merda Mi stanno sparando No, no, non era un culpù No, no, non era un culpù Che cosa è che ha detto? Che è il prossimo? Cazza fatala Wackbar Ehm Vabbene Sto abbassando Abbiamo così finito il video di oggi Tornatene in quel buco di merda che chiami casa Cazzo 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 L'ho preso di strisce I nervi sono tasti Eccentate 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 Alza la testa Fintia di pittane Ho finito le munizioni Merda Mettiamo un niara Finiamo l'orda e chiudiamo il video Mi sembra la fine più appropriata Forte è finita, pezzo di merda. Portatene sottoterra! Oh, porco il cazzo! Appena l'ho cominciato a sentire troppo vicino per essere così. Deve far male, eh? Granata! Mi servono munizioni. Carica tua sorella! Quanto odio questi Aspettare che siano un po' più vicini per spararli Mi prendi per il culo Dai Vieni qui Tom Aiutami Tom Dove cazzo sei Tom Figlia di buona Tom Affanculo pezzo di merda Va bene Se non entriamo in un'orgia Di locuste Direi che il video può terminare qua Fa culo Può terminare qua Può E lo farà Ok ragazzi quindi noi ci rivediamo domani con Con i video della nuova settimana Dal vostro RoboZombie è tutto Ciao ciao Ciao